bene arrivato immaginavo che saresti venuto qui è stato inutile ne sei sicuro hai di certo trovato qualcosa di prezioso non so se ha valore ma quello che hai tra le mani è proprio tua figlia cosa intendi prova a guardare un po meglio dentro quel flacone è contenuta la sua testa rose non azzardarti a dirlo non è possibile non può essere vero lo spirito di tua figlia è del tutto intatto possiede dei poteri straordinari chi potrebbe mai farlo puoi ancora salvarla salvarla da questo sei fuori di testa a ovest del villaggio c'è un'abitazione dal comignolo rosso vai a trovare l'uomo che vive lì poi potremo proseguire questa conversazione basta perdere altro tempo e dimmi subito tutto non c'è nulla che ti obblighi a fidarti di me ma hai delle alternative migliori la scelta è tua il cliente ha sempre ragione dopo tutto se stai mentendo la pagherai molto cara che pagliaccio a Grazie.